e Rossana Martisani, altrimenti. Adesso non vi ringrazio. E c'è stasera tra l'altro una delegazione numerosa di questo gruppo che veramente è un gruppo antidepressivo, ossia non ci si sente mai soli, vero? E non ci si sente mai abbandonati, così, eccetera, eccetera. Ah, non credo. Sì, sì. Buonasera a tutti quanti. Vedi che c'è una cucchia di bucca aperta qua, eh? Ma tu non c'è nessuno. Io ho visto che non mi sono sempre le sorelle svestite, le pregò, Torino. E il Rossana, sorella Rossana, e c'è stata una sorella di Gabriele. E' un cammino. Arrivo, arrivo. Eh, no, tutto ne vi spassa. Eh, no, non tanto proprio. Ma vedi che ci vai a, invece, ne vi spassa. Allora, ci va a raccontare a parte del tempo. Quindi ci faceva solo il salto. Ma voi, ci steve una volta che... Oh, no, 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 no. Ma voi, ci sono fermata la macchina a sta monta e ha chiesto un passaggio. Una signora, ci ha fermato una bella macchina, una cosa di lusso, lo bruscatto dell'acqua. E allora, ci ha detto, ma compigliano un bel film. E io, ma compigliano un bel film. Ci sta freddo, un paffè, una bella gondolata. E qui, quando ti ha gustata, sta gondolata? Due notte d'amore. Oh, e la pellicci, la pelliccia quando ti ha gustata? Eh, la pelliccia ma la settimana d'amore. La macchina è pure la tua, eh? Sì, pure la macchina è la tua. E questo quanto ti ha costato? Eh, questo mi ha costato due mesi d'amore. E' arrivata a lui con me, mi sono tolita la celletta a me e mi sono tolita qui, a vedere quest'amore. Eh, no? Tocca, tocca, tocca. Qui, eh? Eh, sotto un seppuccio. Sono venuta per la notte d'amore. E' discippercato tu e la sanguina. E' la nostra stessa l'amore. E' appurata la bicicletta, non io ora. E' passi. E' appurata la bicicletta, non io, io sono pure sorda qui. E' appurata la bicicletta, non io ora. Ha chiesto un passaggio e si è fermato un camionista. Un camionista siciliano. E' la bonti. Ma ci sai. E' stato sopra i stugani. E' meglio per parlare di stamorre. Tu mi chiami sorella. Giovanni, e tu come si chiama? io mi chiamo come quelle che tenete sempre in mano no, Rosario mi chiamo allora avete capito più o meno di che cosa si tratta questo gruppo e io volevo chiamare, prima di chiamare l'altro coro molti membri di questo gruppo e chi veramente vuole entrare perché siamo di... membri, poi c'è anche il dottor Temprino, è un chirurgo è un gruppo serio, per carità, si fanno le... facciamo gli spiritosi fino a notte tardi, ci teniamo compagnia volevo chiamare un po' i componenti Federico Loman, vieni, mi renda Cittina, la Cittina, giusto? Cittina, Gianluca della Rocca, Rinaldo Petrangolo, venite tutti... Maria Di Pento, anche tu... Mirella, tutti quanti? Paparella, sì, sono dei nomi assunti Lorella, tutti quanti? Paola, schiavone Lorella, cipollone, Lorella, cipollone, la Maria Di Pento, lo monti venite tutti perché dobbiamo farci una cosa Manuela, come è Manuela? Noi siamo, siamo un gruppo di...